musica 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 contenta Giulia non c'è in questo preciso momento perchè sta di la a guardare la tv perchè Giulia ormai è innamorata di youtube specialmente poi dopo viene le altre cose musicali, instagram, ecc e quindi ora sta vedendo la tv, se vuole venire viene e facciamo un po' di live insieme ragazzi ma a voi piace vedere le live su musicali perchè mi piace un sacco farle voi che state facendo ora stasera vedete qualcosa in tv io stasera non so cosa vedere sinceramente la live l'ultima la live forse no non l'ho fatta ieri quando l'ho fatta l'ultima live? l'altro ieri giovedì l'ho fatta e quindi vivo la vita bello Giulia è guerita per fortuna si sente molto 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 meglio e per fortuna domani possiamo andare insieme nell'ufficio di Babbo bellissimo e noi siamo contentissimi perchè vogliamo vedere un po' tutto quanto tutto di no? e quindi si ragazzi vi piace questa roba un po' tutta viscidosa questo slime tutto strambo voi domani che fate di bello? andate a mangiare dai nonni cosa fate? io invece vado appunto nel figlio di mio padre e dopo cioè no dopo oggi invece stasera abbiamo mangiato la pizza con io con fairly e pure un'altra volta quando feci la la live su musical.ly in pratica ho mangiato la pizza allora in pratica abbiamo mandato la pizza e io quella lì con if we are really molto belli e quindi si mentre l'altra volta pranzarotti e poi mi sono mangiata le chiacchiere po breder po breder tutti i i i i i Grazie a tutti.